Ciao a tutti ragazzi, sono Giovanni Saldì con il progetto Fammi girare la testa, quest'oggi siamo ad Aosta. Potete vedere intorno a noi ancora alcune cime innevate. La piazza è bellissima. Facciamoci un giretto per questa splendida città. Venite con me. Le splendide mura dell'antica Augusta Pretoria. Questo è il punto esatto dove sorgeva la Porta de Cumala. Oh regà, alle mie spalle c'è sta l'uva, è anche più grossa di quella che sta ai Capitolini. Beh, l'impianto architettonico della piazza è molto chiaro ed evidente, no? Sono stato attratto dal mulino e ce lo spiega il signore. Che cos'è? Ma dice che è una ruota che vogliono alimentare con l'acqua. Adesso metteranno una centralina elettrica e darà luce a questa piazza. Sono il cugino di Edoardo Stoppa, l'amico degli animali. Guardate Stella. Ciao, saluta Stella. Signori, anche il campanile di Aossa si è accorto che siamo arrivati in piazza e suona per festeggiarci. Insomma, la cattedrale di Aossa ci fa letteralmente girare la testa. Ragazzi, siamo in piazza Caveri. Il vostro giova sempre è sportivo. Oh ragazzi, riesco ancora a fare dei trick da paura. Bravo! Hai sentito? Zainetto in spalla, ci troviamo a Porta Pretoria. Con la coro Sant'Orso di Aossa è passata appena adesso la RAI con Lorena Bianchetti. Immaginatevi, e dopo Lorena li presento io per il mio canale YouTube. Guardate che chicca! Guardate che chicca! Guardate che chicca! Ragazzi da Ossa è tutto Ciao e alla prossima Ragazzi non abbiamo registrato Dobbiamo rifare tutto No no abbiamo fatto Grazie ragazzi Grazie maestro Iscrivetevi al canale Giovanni Saldini Grazie a tutti